Cosa significa per voi essere trattati come numeri in graduatorie opache o strumenti di profitto per enti privati? Essere dei numeri ed essere considerati tali purtroppo è allenante, è l'anonimato per eccellenza, sembra di essere in un film distopico dove ci sono insegnanti che sono reputati praticamente delle comparse all'interno del sistema e in questo caso paradossalmente siamo numeri rispetto al risultato delle prove ma non siamo neanche numeri dentro le graduatorie perché dentro le graduatorie non ci siamo nonostante abbiamo superato un concorso e non c'è traccia di noi, non c'è alcuna testimonianza del nostro merito, del nostro coraggio e della nostra preparazione.